Ciao bimbi e bimbe, oggi vediamo un po' di miei disegni. Qua si, Torno non l'ho mai finito, qua invece Iron Man, questo qua mi sono sbattuto come un drago e boh ci sta. Il giocatore piace molto, devo dire un bel ritratto secondo me, mi è benvenuto. Il Mida, incredibile, vabbè bei tempi questi. Anche il simpatico Groot, ci ho messo un lustro per farlo, insomma. La signorina bagnata, questo qua, beh, era un bel disegno, si ci sta. Qua c'è un Naruto completamente a random, era per un tutorial su YouTube, mi sa, anche Goku, si. E la manina che fa Yatta, vabbè era un esperimento come un altro, però mi piaceva l'effetto. Martin Pescatore che piglia il pescetto, bravo, uccellino. Qua invece è Goku con la Genki, questo è vecchio, minchia, chi mi segue da un po' lo conosce. Qua un po' di esercizi a casaccio completi. E Mikey, bah, un disegno un po' di merda questo. Mitico Rose Geller, questo qua è abbastanza fotorealistico, non li faccio più questi disegni perché non ne vale la pena, però, madonna quanto me l'ho sbattuto. Vabbè, tutti i Pokémon di Kanto, Shamper, questo qua è un disegno fuori dai sensi per la fatica che ci ho messo. Nalince, anche sto qua era per un tutorial su come fare il pelo, Crash Bandicoot, top gioco. E parte 2.